Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14 e 30 su Aracne TV. Buongiorno e bentornati, sempre ospiti della suggestiva cornice di Vivere e raccontare la rubrica ideata da Augusto Zucchi e Gioacchino Norati, dedicata agli autori e a tutte le opere del loro ingegno, il sipario di spazio scenico si apre sul protagonista di oggi. Un piacere avere con me il generale Gaetano Scazzeri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno generale, grazie davvero di aver accettato il nostro invito. Allora, nato a Brindisi 54 anni fa, entra nella Guardia di Finanza nel lontano 1983, quindi da ragazzino. Ha conseguito due lauree, in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria. Titolata la scuola di polizia tributaria, è autore di moltissime pubblicazioni anche in materia di fiscalità internazionale. Ma la nostra curiosità di oggi è sapere chi era Gaetano da bambino e come si immaginava d'adulto. Dunque, da bambino ero sicuramente un bambino tranquillo, che rispettava le regole sia familiari che sociali, quindi quelle della scuola, quindi attento al mandato che mi veniva dato. E quindi una, penso, naturale propensione a questo tipo di lavoro, che ho cominciato a maturare negli anni del liceo. Quindi, quando un mio compagno di classe è entrato all'Annunziatella, che è una scuola militare dove si entra a 14 anni, quindi dopo il bienio, insomma, quindi una scelta ben più dura di quella che ho fatto io, ma che mi ha cominciato a far pensare appunto alla vita militare, ma non alla vita militare in generale, ma alla guardia di finanza. Un bambino così rispettoso delle regole si trovava bene o male? Nella società bambinesca, diciamo. All'epoca bene, perché pur essendo cresciuto in un paese medio-grande del Brindisino, c'era comunque rappresentata tutta la struttura sociale, dai benestanti ai meno benestanti, quindi inevitabilmente c'era anche un livello di, non dico criminalità, ma sicuramente di gruppi che non rispettavano le regole o cercavano una rivalza sociale in questo modo. e appartenendo quindi a una media borghesia, eravamo un po' il punto di attenzione da parte di queste bande, di questi ragazzi, però abbiamo sempre gestito con un gruppo, un buon gruppo di amici che sento ancora che con i quali sono in contatto, sapevamo gestire il nostro senza subire, ma senza neanche violare le norme appunto. Era forse però un'altra società, lei infatti è docente in vari istituti della Guardia di Finanza e in master universitari, sono molto diversi gli studenti di oggi da quelli di ieri? Sono diversi, sono meno passivi nel senso positivo del termine, nel senso che mettono in discussione quello che gli viene detto. Noi eravamo meramente ricettivi, come se mettessimo da parte, in attesa di attuare in un secondo momento nella vita lavorativa, quello che avevamo preso durante il periodo di formazione, così al liceo come in Accademia della Guardia di Finanza. Adesso, essendo docente anche presso la scuola di applicazione, che sono gli ultimi tre anni che gli allievi dell'Accademia svolgono attualmente a Roma, o magari in master universitari, dove ci sono neolaureati, vedo che c'è una ricerca di confronto, di riscontro, Un salto di qualità, diciamo. Un salto di qualità, non viene accettato tutto come per dato, come se fosse un dogma, ma viene messo in discussione, ma non perché non si ha fiducia nei confronti di chi sta esponendo quello che viene detto, ma perché si vuole capire il perché di alcune regole, per come si possono superare i problemi. Andare a fondo alla questione. Andare a fondo, snocciolarla fin dall'inizio, fin dalle prime fasi di confronto. Ecco, quindi lei comunque è a contatto con studenti di diverse fasce d'età. Come vivono questo fenomeno, questa piaga, mi permette di dire, della corruzione? Percependolo. E questo è un lato sicuramente positivo da un lato, e negativo dall'altro. Percependolo perché temono di non poter ottenere dalla società i loro meriti. Non dimentichiamo che la piaga della corruzione ha come effetti, tra i vari effetti, quello della fuga di cervelli cosiddetta. Quindi non consentire il riconoscimento dei meriti agli studenti, ai neolaureati, ai ricercatori universitari che sono costretti a spostarsi all'estero per vedere riconosciute le proprie capacità, vuol dire che c'è un sistema che non riconosce la meritocrazia. E questo è sicuramente una delle forme di corruzione. Certo, sono perfettamente d'accordo con lei. Ha svolto incarichi di comando in diverse zone d'Italia. Napoli, la Sicilia, dove ha comandato la tenenza di Partinico. Poi a Roma, presso il nucleo di polizia tributaria, dove si è occupato di indagini patrimoniali, tra l'altro proprio contro la criminalità organizzata. Poi Venezia, poi Ancona. Ecco, il fenomeno della corruzione davvero non conosce l'attitudine. Soprattutto, secondo lei, quali sono le prospettive di soluzione di questo dramma italiano? Tutto italiano, mi vorrebbe da dire. Non tutto italiano, perché la corruzione è un fenomeno globale, mondiale. È presente ovunque, in maniera più o meno determinante. Abbiamo il fenomeno della corruzione molto più presente nel sud del mondo, direi. Mi viene da pensare all'America Latina. L'America Latina, però se si guarda la cartina di Transparency International, che è questa istituzione internazionale che si occupa della percezione della corruzione, si nota come questa cartina mondiale ha i colori più chiari nel nord Europa e nel nord America. A scendere il colore diventa sempre più scuro, più rosso. Noi facciamo parte di quel sud del mondo, diciamo. Noi facciamo parte di quel sud del mondo, siamo meno colorati della Somalia, ma tenga conto che da quando è entrata la legge anticorruzione, dal 2012, in questa classifica di Transparency International eravamo messi molto male. Adesso abbiamo guadagnato 18 posizioni, siamo 54esimi. Chi ha il 100% sicuramente è il meno corrotto, come è stato, e stiamo facendo quindi dei passi avanti. È diffuso come fenomeno e la soluzione qual è? La soluzione è meramente culturale. Perché dico questo? Perché la presenza di norme, di regole, deve esserci, ma non è l'unica soluzione. Innanzitutto è un problema che non si risolverà dall'oggi al domani. Forse non si risolverà mai completamente. Ma alla base di tutto questo c'è la cultura del cittadino. Facevo l'esempio del Nord Europa. Nel Nord Europa c'è una concezione di trasparenza innata. Tutto viene fatto alla luce del sole. Ed è questo uno dei metodi individuati anche dalla recente normativa, la famosa trasparenza amministrativa, che deve consentire alla pubblica amministrazione di operare alla luce del sole. Quindi c'è un simpatico esempio portato avanti dalla Banca Mondiale che ha sottoposto un test a un migliaio di dipendenti pubblici, anonimo chiaramente. Quindi l'ipotesi è che il dipendente è l'ultimo a lasciare l'ufficio, va a prendere l'auto in un garage completamente vuoto e vede una busta di carta. Te l'apri e ci sono dei soldi. La domanda è come ti comporti? Le risposte sono ci penso la notte perché è tardi, tengo la busta per me, la consegno alla polizia in percentuali più o meno differenti. Poi la domanda viene cambiata, dice ma c'è una telecamera che forse ti ha ripreso? Come ti comporti? Il comportamento cambia. Chiaro che sì. Chiaro che sì perché qualcuno mi ha visto. Come cambia questa bellissima conversazione con lei in generale? Senza la telecamera probabilmente sarebbe sicuramente una conversazione ugualmente gradevole ma differente. Ecco, l'educazione civica nelle scuole, cioè il fatto di insegnare che il rispetto delle regole è alla base della libertà poi individuale. Esatto. Siamo più liberi se le regole le rispettano tutti. È proprio questo il problema, capire che c'è un rispetto delle regole indipendentemente dalle sanzioni, perché la sanzione sia importante, vista come rieducativa comunque, questo è lo scopo della sanzione, della sanzione penale o amministrativa. Ma serve davvero sempre un deterrente? È questo il problema, è questo il problema, perché se c'è bisogno di un deterrente vuol dire che c'è un atteggiamento sbagliato. Esatto. Se le regole ci sono ma non vengono applicate vuol dire che non ce n'è bisogno perché la cultura ha raggiunto un buon livello di civiltà. Ce l'auguriamo, insomma, il livello di civiltà si misura proprio da quello, dal rispetto delle regole. Dal 2015 è il primo comandante del nucleo speciale anticorruzione, un reparto costituito per dare un supporto all'ANAC, che non ce la faceva più, nell'attività di prevenzione della corruzione. Secondo lei, come siamo considerati all'estero nel contrasto al fenomeno? Quindi non come livello di corruzione, ma che cosa facciamo noi per combattere? Beh, innanzitutto una piccola premessa sulla collaborazione con ANAC. ANAC è un'autorità amministrativa che si avvale della Guardia di Finanza per previsioni normative, chiaramente. In questo caso la Guardia di Finanza può esercitare i suoi poteri di pulizia economico-finanziaria, di pulizia tributaria. Quindi qualcuno ci ha definito il braccio armato di ANAC. Quindi dove ANAC non può arrivare, perché magari è proprio un'autorità amministrativa, interviene la Guardia di Finanza che mette in campo la propria professionalità. Già esperti nel settore tributario, nel settore economico-finanziario, a tutela del bilancio statale ed europeo, applichiamo queste stesse regole per analizzare contratti in divenire. Quindi siamo in una fase antecedente alla conclusione del contratto, proprio per bloccare il contratto nel divenire se ci sono degli elementi di disturbo. E questo è un grosso vantaggio perché si interviene prima che il fenomeno si sia manifestato e significa bloccare appalti pubblici, mandare a casa gli operai, spendere ulteriori denari pubblici per risolvere il problema. Come siamo percepiti all'esterno? Dipendere da chi ci osserva. Ultimamente sono chiamato spesso da stati balcanici per condividere con loro le nostre esperienze. Estonia, Lettonia, Lituania? Esatto. Ma anche Macedonia, Serbia. Perché? Perché vogliono imparare da noi, proprio perché sono paesi che ambiscono ad entrare in Europa, vogliono imparare da noi le tecniche anticorruzione. Anche loro hanno delle autorità anticorruzione, hanno le regole, hanno le sanzioni, ma vogliono capire da noi come attuare la prevenzione della corruzione. Tenga conto che noi siamo una polizia economico-finanziaria militare, quindi abbiamo delle caratteristiche che non sono altrimenti presenti in Europa e abbiamo quindi nella struttura della Guardia di Finanza c'è la concentrazione di poteri amministrativi, di polizia giudiziaria che alternativamente non si trovano. Ed esecutivi, forse anche, come un piccolo esercito, insomma. Esatto, esatto. Quindi abbiamo un potere di analisi, di controllo che difficilmente si riesce a trovare in altre istituzioni. Con questo proposito le faccio una domanda. Come viene percepito, lei in quanto generale, appunto, di una forza armata, chiamiamola così, come vengono percepite le fiamme gialle in generale nella società e qual è la difficoltà di essere un generale indivisa nella società civile attuale? Dunque, la percezione della Guardia di Finanza è cambiata di recente. Perché la Guardia di Finanza fino a qualche tempo fa era colei che metteva le mani in tasca al cittadino che, è vero che non pagava le tasse, ma comunque era una posizione negativa. Poi da qualche anno è cambiata la concezione. Negativa o comunque scomoda. No, comunque scomoda. Cerco di chi non voleva o non poteva pagare le tasse. Di recente, nel medio periodo, è cambiata la percezione perché siamo riusciti a trasmettere il messaggio che la Guardia di Finanza è vicina al cittadino perché è nell'interesse del cittadino che noi recuperiamo le tasse. Pagare meno, pagare tutti. Pagare meno, pagare tutti. Se il negoziante non emette lo scontrino fiscale, la scuola per i suoi figli la paghiamo tutti noi. L'ospedale per la mamma malata la paghiamo noi perché lui non la paga in quanto non paga tasse. Questo è il messaggio che è stato veicolato e quindi tutti insieme paghiamo le tasse, tutti insieme pretendiamo che vengano rispettate le regole e quindi abbiamo sicuramente dei vantaggi diffusi. Non le faccio la domanda retorica se le piace il suo lavoro perché lo percepisco con la passione con cui me lo sta raccontando, però le faccio questa domanda. Si sente solo ogni tanto in questa sua mission? No, no. Il bello della Guardia di Finanza è questo. Del fare squadra? Del fare squadra, del condividere, del trovare sponda. È cambiata anche secondo me l'azione di comando. Il comandante non è più solo. Il comandante come un vero manager condivide le scelte. Condivide, condivide. È un capo d'azienda. E poi decide perché comunque la responsabilità decisionale è sua, però si arriva a una decisione condivisa. Progetti, sogni, ambizioni. Lei è ancora giovanissimo, vedo che insomma certo non si è fermato. Ogni volta che si arriva a un punto poi si riparte. E questo è ancora un altro aspetto molto prestito del nostro lavoro perché non abbiamo una limitazione settoriale. Io mi sono occupato di comunicazione pubblica, sono stato responsabile del sito internet a Guardia di Finanza. Mi sono occupato di criminalità organizzata, di evasione fiscale, adesso di corruzione. Quindi il bello è che si cambia. Quindi è un mestiere che consente di avere stimoli continui e quindi se c'è lo stimolo c'è l'interesse, c'è la voglia di studiare e di mettersi in discussione. Mi permette una domanda. La realizzazione è anche nel privato? Sì, totalmente. Sono molto contenta anche di questo. Non le ringraziamo, Generale Scazzeri, del lavoro che fa davvero e di essere stato oggi nostro ospite. Grazie a voi. Grazie di cuore, buon lavoro. Do appuntamento a voi tutti, come sempre, se volete, qui a Spazio Scenico, su Aracne TV. Grazie. Grazie.